Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata sono partito per la spedizione alla ricerca della fortezza del land e finalmente l'ho trovata. Abbiamo trovato quindi il portale del land che andremo ad attivare in questo episodio ma non andremo ancora nel land a sconfiggere l'ender dragon perché come ho spiegato l'altra volta voglio essere meglio equipaggiato per poterlo affrontare e in questo episodio andremo ancora alla scoperta della fortezza perché sono certo che mancano ancora tantissime cose. Partiamo subito però con l'esplorazione non perdiamo assolutamente tempo. Dunque vediamo un po' dove possiamo andare. Qui vedo che si può scendere cercando di non ammazzarci perché qua mi pare che ci sia un canyon. Esatto è il canyon che avevo visto l'altra volta. Perfetto. E da questa parte mi sembra di essere già stato perché vedo delle torce quindi sicuramente di qua sono già passato però non da quest'altra parte quindi andiamo a vedere cosa c'è in questa zona della fortezza. Oddio sento già gli zombie. Stiamo attenti perché non voglio essere attaccato subito da orde di zombie e mostri vari. ragazzi c'è un dungeon lì iniziamo bene iniziamo bene la puntata ragazzi c'è un dungeon ma cos'è sta cosa ah ah un mini zombie di quelli cattivissimi velocissimi ah ok ragazzi un dungeon però non vedo le casse vabbè comunque questo la possiamo rompere perché tanto questo dungeon non lo faremo più sicuramente non andremo ad utilizzarlo ok ok ragazzi un dungeon così subito a inizio puntata direi che non abbiamo iniziato male allora devo farmi delle torce ok perfetto no non così tante dai va bene che me ne servono però devo trovare assolutamente la la libreria perché come ben sapete nella fortezza esiste anche una libreria con alcune casse dove potrebbe esserci qualcosa di interessante quindi questa zona non l'ho ancora esplorata bene 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 allora vediamo un po dove possiamo andare mamma mia enorme veramente questa fortezza però sono sicuro che cela qualche segreto allora qui bisogna stare attenti a non buttarsi giù qua c'è il dungeon ma dai abbiamo trovato un dungeon subito a inizio episodio veramente fantastica sta cosa un dungeon nella fortezza proprio non mi era mai capitato qui vedo delle celle però mi sembrano completamente vuote allora andiamo da questa parte ok sento anche dei ragni spero non ci sia un altro dungeon anche per un pelo no 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 non mi esplodere dai che mi rovini muri della fortezza con tutti gli anni che sono rimasti intatti vabbè non importa siamo sopravvissuti al anno qui c'è il bottone ok ok qui non c'è più niente c'è del carbone però visto che mi serve un po di carbone mi sa perché sto finendo le torce e ce ne servono veramente tantissime per illuminare bene la zona lo recupero così ne abbiamo disposizione un pochino e procediamo dunque qua non c'è nulla qui è esploso il creeper mettiamo di nuovo la torcia per far capire guarda qua che disastro che ha fatto sto creeper ah mettiamo a posto eh scusa qua non è che si può rovinare così una bella fortezza allora ecco qua qui un'altra stanza vuota vediamo se questa zona ok qui c'è il canyon ok dunque 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 da questa parte c'era non lo so che cosa qui siamo già stati oddio un altro creeper che devo stare attento no dai non esplodere anche tu dai ok stavolta siamo passati tranquillamente di qua hm nulla di fatto ok qui siamo passati direi che possiamo forse salire qua perché mi sembra di aver esplorato bene o male tutto quanto ho sentito un enderman ho sentito un enderman dove sei vieni fuori fatti vedere no ha paura di me ok ok benissimo tornerei su a questo punto cercando di non volare giù da questa scala perfetto ora vorrei un attimino cercare questa benedetta libreria ma ce ne sono anche forse due ce ne è una o due piani sicuramente e poi forse ce ne è un'altra ecco possiamo andare di qua un pochino più grande allora oddio sta piovendo mi piove in casa ragazzi mi piove in casa ah perché questo è il buco che ho usato per scendere quindi va bene tappiamo perché non è bello che piova in casa ora direi qui che avevo messo questo blocco per evitare che ci siano mob ma non mi pare ci sia nulla di interessante e però a questo punto da questa parte oh il creeper irragno il creeper irragno il creeper irragno no qui c'è il portale ragazzi oh non è che possiamo far esplodere il portale non facciamo esplodere il portale aiuto aiuto ok l'ho ucciso ragnaccio come è messa la spada ok un altro creeper no dai qui ci sono i portali ragazzi oh non possiamo fare esplodere i creeper qua no ragazzi che disastro che mi si rompe il portale qua oh ok mettiamo luce devo andare da questa parte ma che pipistrello aiuto ok bene ragazzi ecco qua questa è un'altra zona inesplorata uh si scende qua qui c'è dell'acqua eccola ecco qua ecco qua ecco qua ragazzi ci siamo ci siamo la libreria la prima libreria ragazzi ecco la libreria dobbiamo mettere un po' di torce dov'è la cassa ci deve essere una cassa qua in giro eccola qua eccola qua carta e libri no delusione ti lascio qua la carne di zombie cosa posso lasciargli qua che delusione ma no ma dai mangio anche del pane va vediamo se c'è qualcos'altro liberiamo da queste ragnatele direi che qua quando ho fatto la libreria per la stanza del degli incantesimi devo dire che era stato un lavoro lunghissimo craftare le librerie ora guardate quante ce ne sono però tutta questa ragnatele questo sporco non la puliranno da un sacco questa libreria ok vediamo di aver liberato tutto prima che arriva qualche mob mi incastro nelle nelle varie ragnatele ok direi che questa libreria oramai non ha più niente da offrire che non mi pare di vedere altri libri scusate altre casse quindi possiamo andare via però è interessante dai ok qui abbiamo esplorato procediamo dunque da quest'altra parte vai è tutto buio quindi non abbiamo ancora visto niente comunque rendetevi conto quanto è grande questa aaaaa mi ha preso i creeper oggi cosa c'hanno? eh cosa avete contro di me oggi? no spiegatemi cosa volete cioè dietro ogni angolo sono luce luce qui c'è ancora da esplorare qui non c'è nulla non so oh qui si sale si sale ma è chiuso peccato quindi qua non c'è nient'altro apriamo sta dannata porta boh qui credo che sia finito a questo punto possiamo scendere vediamo un po' di non trovare un altro creeper dietro l'angolo dunque da questa parte ah si c'era l'acqua bene questa zona l'abbiamo fatta perfetto oh un altro creeper un altro creeper un altro creeper un altro mi sta deturpando tutta quanta la fortezza eh no eh uffa siamo a posto un posto disastro uno un po' di terra ok uffa qui si è rotta questa cosa qua ma ah ok ragazzi adesso dove andiamo vediamo possiamo scendere di qua forse l'ho già esplorata sapete che non mi ricordo più mi pare di sì di averla già esplorata però andiamo a vedere lo stesso se c'è qualche zona nuova qui o qui forse qua sopra vediamo ok dov'è che ci troviamo qui non lo so più non lo so più ragazzi io però vorrei trovare anche l'altra l'altra libreria perché penso ce ne sia un'altra due piani me l'avete chiesto anche nei commenti e mi pare proprio di sì quindi devo riuscire a trovarla ora però dove sia questo è un mistero misterioso allora da questa parte siamo già andati temo proprio di sì 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 dai di qua siamo andati qua vedo che c'è una porta che sta sempre e si apre e si chiude ok mmm comunque questo è il posto dove ho trovato l'altra volta la grotta io quasi quasi la esploro ragazzi avevo già messo esatto avevo già messo quella torcia perché c'erano anche delle cose da prendere quindi perché no visto che non troviamo altro io penso di aver esplorato gran parte della della fortezza e quindi vediamo adesso di fare anche un minimo di esplorazione dei dintorni magari recuperare qualcosina che dite perché mi sembra che la fortezza magari lo so perché non è detto che si riesca sempre a trovare la libreria del resto potrebbe essere che c'è una c'è qualcosa di mezzo un muro una qualunque cosa come prima abbiamo visto che c'era ma ho l'inventario pieno sì allora butto via i bottoni che non me ne faccio nulla poi sto attento eh ragazzi sto attento a buttare via le cose inutili ho ripreso i bottoni però adesso posso prendere almeno questo questo ferro ragazzi guardate quanto quanto ce n'è qua di carbone mamma mia che bella questa caverna qui uuuuh 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 facciamo attenzione eh devo prendere altre torce altre torce altre torce sto finendo il legno dovrò distruggere la la libreria ok sono le ultime 32 torce queste wow qui dove si va mamma mia guardate qua si scende da quella parte si sale vediamo un po' dove si va allora iiii ma no perché faccio queste cose no ragazzi non devo fare queste cose qui vedo un bel giro di cose c'è un po' di roba da prendere ragazzi faccio un piccolo stacco recupero un po' di materiale che vedo in giro e ci rivediamo tra pochissimo ragazzi è successa una cosa strana mentre stavo scavando per recuperare i materiali ho sentito uno zombie che tentava di sfondare una porta questo può significare che qui c'è ancora una parte della fortezza da qualche parte e io devo trovarla però non vedo niente qua in giro però sento gli zombie che ragazzi eccola guardate guardate lì no adesso ci sono gli zombie devo riuscire ad evitarli ho rotto la spada ragazzi ho trovato un pezzo di fortezza questa parte probabilmente non l'abbiamo mai esplorata è pieno di zombie però qua è pieno di zombie devo cercare di fuggire ok no andate via andate via andate via da me via 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 ok mamma mia quanti ce ne sono ok così non dovrebbero più dar fastidio guardate qua ok dobbiamo fare attenzione c'è un po' di di esperienza guardate ragazzi non l'ho mai non l'ho mai esplorata questa fortezza guardate qua creeper aiuto ragazzi questa è un'altra parte mai vista devo andare con calma con legno perché cioè scusate con le torce perché veramente se no non ne ho più attenzione attenzione dove metti i piedi c'è un creeper che mi aspetta ora io dovrei avere anche un arco sì perfetto vediamo di prenderlo da qua e prendi questo e prendi questo ok ragazzi c'è ancora della fortezza qua lo sapevo però è finita qua no dai non può essere finita qua la fortezza no aspettate qua 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 guardate qua guardate qua nascosta dietro qua c'è un'altra scala saliamo ferro qui c'è ancora una porta ad ogni angolo qui c'è un pericolo scale che salgono cos'è questo posto ragazzi una scala una cassa una cassa delusione che delusione adesso lascio qui questo 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 che non me ne faccio niente questi magari sistemo un attimino la fortezza ok questa la tengo posso ammassare qualcosa non lo so però qui guardate cosa c'è legno che è quello che mi serve assolutamente altrimenti non posso fare più le torce quindi ragazzi qui siamo costretto sono costretto a fare un altro stacco per rompere un po' del legno fare magari una un'ascia e recuperare le legna altrimenti non posso fare altre torce ci vediamo tra poco ok ragazzi come vedete ho tolto tutto quanto il legno e ora possiamo procedere in modo che abbiamo anche a disposizione parecchie torce da fare dunque da questa parte non sono mai andato ma eviterei qui siamo scesi no da qui siamo saliti quindi aspettate che devo trovare un altro posto dove andare cerchiamo di illuminare un po' è stato provvidenziale trovare questo posto perché non avrei mai trovato della legna mai e poi mai assolutamente allora ah guardate qua cosa c'è la libreria lo sapevo guardiamoci un attimo intorno ok questo è il retro della libreria faccio un po' di luce per evitare che spawnino troppi mob ok forse così siamo tranquilli ora andiamo a vedere la libreria ah 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 uh cos'è qua un bug un bug dell'illuminazione allora vediamo di togliere queste ragnatele e andiamo a cercare la cassa eccola qua ah che delusione carta e libri inutili carta e libri inutili carta e libri inutili allora facciamo un po' di pulizia qua dalle ragnatele però ah 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 oh è proprio quello che volevo evitare di vedere mob qui dentro ho visto la scala adesso saliamo ragazzi perché c'è un altro piano come vedete fantastico abbiamo trovato la seconda libreria ragazzi in un posto molto molto difficile da trovare perché del resto con tutte quella parte praticamente di caverna se non avessi sentito lo zombie che cercava di sfondare la porta non l'avrei mai trovato questo posto allora dove era la scala qua saliamo saliamo allora mettiamo un po' di torce qui non c'è niente niente un'altra cassa un'altra cassa delusione anche questa ebbene sì libri su libri del resto cosa che volete trovare in una libreria libri qua ci sono anche delle torce buggate una e una due quasi quasi le sistemo hop 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 e sì perché la libreria dobbiamo anche restaurarla un attimo perché qua l'abbiamo pulita adesso ci mettiamo anche le torce perfetto ok ragazzi mangiamo e credo che qua abbiamo finito con l'esplorazione perché sento delle porte qua che cercano di sfondare ma non le vedo dove sono non vedo altri zombie qua ragazzi cos'è questo è un altro posto ma che vuoi tu via 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 ragazzi forse anche si arriva da quest'altra parte ah sì ecco forse di qua eccolo lì guardate i creeper però a questo punto passo da sopra e uccido i creeper perché guardate qua che disastro tre creeper ci sono sarei morto sicuramente almeno uno ok questo è fatto lo zombie ok l'altro creeper non potete niente non potete niente e vai guardate quanti ce n'è un altro incredibile adesso raccogliamo tutta la ce ne sarà un altro no 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 sì 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 esploso esploso zombie 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 ok ripulita subito torce 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 a manetta torce a manetta torce a manetta torce a manetta illuminare illuminare non so dove sto andando oddio un altro posto di questi ragazzi qui c'è un'altra torcia vuol dire scusate un'altra un'altra cassa un'altra cassa ok illuminiamo illuminiamo poi andiamo a vedere mamma mia quanto è grande ragazzi qui c'è ancora del legno saliamo ecco la cassa ecco la cassa eh la solita delusione un po' di redstone vabbè un po' di carbone perché mi sono buttato dentro qua in questa trappola ok questa volta la legna non la prendo perché non credo mi serva e qui ricominciano le caverne quindi facciamo fuori questo scheletraccio ok ragazzi ok oddio un altro zombie sono attaccato da ogni parte ok perché ci deve essere ancora qualche zona parecchio buia e non esplorata e qui recuperiamo la l'esperienza abbiamo finito forse si ragazzi forse abbiamo terminato no non abbiamo terminato si scende ancora ancora ragazzi si scende ok però finisce qua fortunatamente finisce lì ragazzi oggi abbiamo esplorato veramente una quantità di fortezza incredibile abbiamo trovato delle cose interessanti anche un dungeon e ora mi sa che è giunto il momento di fare rientro verso il portale e soprattutto rientro a casa però devo trovare il posto dove ero per tornare indietro mi sembra facile dai non è così difficile di qua poi c'era questa porta qua c'è lo zombie qua che mi aspetta che è anche un ragno che prendo con aiuto è pieno anche di pipistrelli in questo posto mangio e cerchiamo di tornare indietro ragazzi qui oh no un'altra oddio sono incastrato no un'altra discesa no un'altra parte da esplorare no fortunatamente finisce qua ragazzi quanto è grande questa fortezza nessuno non me lo immaginavo neanche così grande sinceramente ok qui c'è la libreria quindi da questa parte perfetto sì di qua siamo andati sì prendo questo ferro perché che lo lascio lì di qui siamo andati sì siamo andati prima ah sì è dove dobbiamo appunto uscire questo è il punto lì esatto 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 ok ok dobbiamo tornare indietro qua io non mi butterei laggiù per niente al mondo cerchiamo piuttosto di fare rientro indenni il creeper lo tiriamo a frecciate se vuoi esplodere esplodi da solo lì sotto ok dunque la parte che dovevo andare no c'è l'esperienza del creeper ma non la prendo quello se ne sta fregando di me e quindi torno indietro perfetto ragazzi era di qua sì uno slime uno slime ok perfetto ah non sono a casa però comunque so dove sono bene ragazzi faccio il ritorno al portale e vediamo di concludere questo episodio ed eccomi ragazzi nella zona del portale che ora andremo ad attivare questo è un momento veramente importante della mia avventura perché questo obiettivo non è sempre così facile da ottenere ed ecco qua il portale verso l'end come ho già spiegato più volte non andremo in questo momento a uccidere l'ender dragon perché voglio equipaggiarmi bene soprattutto avere un arco piuttosto potente dato che l'ender dragon vola e dobbiamo anche distruggere le varie torri che gli danno energia poi vorrei avere anche una spada che fa parecchio danno e magari un'armatura quindi ci vorrà ancora un pochino di tempo ma non preoccupatevi perché prima o poi andremo ad uccidere l'ender dragon a questo punto vorrei fare il ritorno a casa ma come vi ho anticipato nello scorso episodio lo faremo in un modo un pochino particolare infatti ora andrò a costruire un portale per il nether questo perché attraversato questo portale in teoria se tutto funziona dovremmo comparire nello stesso portale che abbiamo utilizzato altre volte nel nether ritornando di nuovo in quel portale dovremmo a quel punto finire a casa e quindi viaggiare molto velocemente prima però di entrare in questo portale devo prendere le coordinate perché poi le andrò a convertire in coordinate del nether dove in quel punto costruirò un portale che quindi verrà unito a questo cosa significa che noi possiamo quindi spostarci all'interno del nether e raggiungere zone molto lontane questo perché come vi ho detto nello scorso episodio gli spostamenti all'interno del nether valgono otto volte quelli nell'overworld quindi presupponiamo che questa fortezza si trovi a 800 blocchi da casa se percorriamo la strada nel nether saranno 100 blocchi quindi molto molto più vicino questo lo faremo poi nei prossimi episodi di costruire questo sistema di spostamenti ora vado a prendere la mia ender chest prendo l'ossidiana l'acciarino e lascio ciò che ho trovato qui nella fortezza non è tantissimo ma non voglio rischiare di magari rimanere nel nether per qualche motivo qualche bug e quindi non riuscire a tornare a casa e perdere un po' di cose ora possiamo distruggere la nostra ender chest e costruire il portale allora ecco qua perfetto togliamo questa torcia è un po' buio faremo il portale quello più economico che richiede solo 10 blocchi allora ecco qua mettiamo l'ossidiana perfetto ecco qua a questo punto vado a prendere le coordinate meno 265 35 1034 perfetto poi vi spiegherò come convertirle in coordinate del nether ora andiamo ad accendere il portale e ora momento di suspense speriamo di comparire nell'altro portale ooooh si ragazzi si ragazzi siamo nel portale nel solito portale che abbiamo sempre utilizzato e ora cosa finale rientriamo nel portale e speriamo di finire a casa ooooh e voilà ragazzi siamo a casa perfetto ha funzionato ha funzionato ok siamo bloccati purtroppo qua dentro infatti andrò a fare una sistemazione a questa porta in modo che si possa aprire anche dall'interno perché useremo spesso questo sistema di spostamenti allora andiamo a rimettere a a posto qua ovviamente ho sbagliato perché sono distratto allora sono contento che è riuscito questo sistema ok possiamo mettere lo stone brick perfetto ragazzi abbiamo rimesso a posto tutto quanto e siamo di nuovo a casa bene spero che questa avventura nella fortezza vi sia piaciuta nei prossimi episodi andremo a costruire questo sistema di diciamo spostamento nel nether ma a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti